Benvenuti a un nuovo appuntamento con lupocchio.it, siamo in diretta da Droid Conditorino edizione 2016 e abbiamo qui Pietro di Zebra che ci dirà perché qui e cosa è Zebra. Ciao sono Pietro appunto di Zebra Technologies che è una società americana che è leader del mercato delle stampanti rugged e stampanti industriali che nel 2014 ha acquistato la parte mobile computing, mobile computing enterprise di Motorola Solution e siamo qui perché noi puntiamo tanto su Android quest'anno e questo è un evento dove per noi è molto importante, dove ci sono molti sviluppatori Android. Quindi Android dedicato al lavoro? Sì, infatti anch'io presento un talk dove appunto dico che Android è il momento di mettersi a lavorare perché abbiamo ora terminali industriali tipo questo che permettono di portare Android anche all'interno dei magazzini, all'interno del transportation e logistic per l'uso dei postini e cose simili dove Android veramente può dare una marcia in più rispetto ai terminali che vengono utilizzati attualmente. E appunto perché può dare una marcia in più? Soprattutto perché è user friendly cioè gli utenti già sanno come utilizzare macchine terminali Android quindi sono full touch permettono di un utilizzo più veloce delle applicazioni quindi c'è un incremento di produttività perché questa è la cosa più importante poi alla fine e poi diciamo dal punto di vista della sicurezza è sicuramente molto più evoluto rispetto a sistemi operativi che sono in in uso attualmente. Ho capito. Ma voi siete partiti da, ad esempio a me viene in mente Android for Work che avevano rilasciato Google poi non ho più sentito niente, voi siete partiti da questa cosa o avete fatto di testa vostra? Allora diciamo che noi abbiamo una storia molto più vecchia, la nostra storia parte 30 anni fa su diversi sistemi operativi quindi il caso d'uso ce l'abbiamo ben chiaro. Android for Work che è rilasciato da Google è un buon passo verso quel caso d'uso ma non è assolutamente sufficiente per questo lavoro. Noi abbiamo delle soluzioni nostre sulle macchine, è disponibile e sarà disponibile Android for Work però non riteniamo che sia sufficiente quindi diciamo abbiamo il nostro strato che si chiama Mobility Extension che permette di rendere la macchina non solo user friendly una macchina Android ma anche IT friendly quindi facile da gestire, facile da configurare e facile da rendere diciamo indipendente dall'utilizzatore in modo che l'utilizzatore possa utilizzarlo come uno strumento di lavoro senza avere problemi dalla macchina, senza doverla configurare. Ho capito. Grazie Pietro e ci vediamo allo speech. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te.